L'emergenza sanitaria da coronavirus non sembra assolutamente alle spalle, infatti con gli ospedali quasi al collasso si faticano anche a reperire dispositivi di protezione. Gesto di grande solidarietà è stato effettuato nello scorso weekend al reparto Covid agropolese dall'Associazione Cacciatori del Cilento. 120 tutte in Tivec omologate EN 14126 sono state donate agli operatori sanitari impegnati per l'assistenza ai malati Covid. I presidi di sicurezza donati sono attualmente introvabili sul mercato perché già ritirati dalla Protezione Civile Nazionale vista l'emergenza Covid. Uno dei membri dell'Associazione Cacciatori del Cilento, Enzo Berardi, li ha acquistati nella città di Milano grazie alla raccolta fondi organizzata dall'associazione che già nel mese di marzo donò altrettante tutte in Tivec agli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri. La consegna è avvenuta alla presenza della responsabile del reparto Covid, dottoressa Rosa Lampasona, del dottor De Martino, in rappresentanza dell'Asla Salerno, presenti anche il sindaco di Agropoli Adamo Coppola e il comandante della Polizia Municipale Sergio Cauceglia, con l'augurio che questo gesto di altruismo possa fare da traino per le altre associazioni del territorio che vogliono donare materiale al presidio agropolese, indispensabile per i sanitari che lavorano quotidianamente nel reparto Covid.